Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e queste cuffie della Hilu a conduzione ossea sono le mie preferite che porto sempre con me in borsa, in macchina, in aereo, in un viaggio perché hanno un suono meraviglioso, non occludono l'orecchio quindi senti anche l'ambiente che ti circonda non costano tanto, sicuramente le conosci se segui il canale avrai visto la recensione e so anche che sono le preferite di tantissimi di voi che seguite il canale oggi volevo farti vedere la versione light sempre del Hilu pur free quindi sono uguali ma questi per esempio quando sono super scontati costano 73 euro mentre questi qua in occasione degli sconti dell'11 novembre che iniziano oggi costano solamente 35 euro in questo video vedremo le differenze tra i due perché la differenza è metà praticamente metà prezzo prendi queste e se vale la pena spendere il doppio per la versione standard soprattutto se vale la pena per chi nella scatola del pure free light abbiamo un cavetto usb usb c e il manuale di istruzioni dove puoi scaricare anche la versione digitale in lingua italiana tramite il qr code la differenza fondamentale che interessa sicuramente a tanti è la qualità audio devo dire che utilizzando questi negli ultimi due mesi e mettendomi ad ascoltare brani e guardare video annotando le differenze che sento ti dico subito la differenza in due parole le pure free standard hanno un suono più fedele mentre le pure free si costano di meno ma hanno un suono più emozionante hanno un basso molto più profondo il suono più corposo lo senti anche più vicino probabilmente questo a causa del diametro differente della componente che vibra per condurre l'audio mentre sono appoggiati sotto al tuo orecchio loro dicono che hanno un volume più alto rispetto al pure free standard io sinceramente non ho notato questa differenza probabilmente perché questo volume più alto è concentrato sulla profondità del suono infatti mi piace tantissimo confrontare l'audio delle cuffie con questo brano di l'inzi sterling crystallize che è molto interessante per fare questi confronti una nota che ho scritto e mi ha impressionato che non sembrano assolutamente a conduzione ossea quando li metti davvero un suono molto molto interessante che sinceramente non ho mai sentito su delle cuffie a conduzione ossea figuriamoci a 35 euro non me l'aspettavo assolutamente d'altra parte dal punto di vista elettronico sono uguali anche per il decoder il microchip bluetooth 5.2 della qualcomm tutte e due supportano aptex e sbc quindi ripeto la differenza fondamentale sta nella componentistica per la conduzione ossea ma anche per il materiale dal quale è fatto tutte e due hanno questa parte del cavo in titanio quindi sono molto molto resistenti d'altra parte quelle standard sono tutte ricoperte di questo materiale siliconico morbido molto comodo liscio ma anche antiscivolamento la stessa cosa ce l'abbiamo da questa parte qua ma non ce l'abbiamo invece da qui che in plastica dalla parte superiore però la parte inferiore pur sembrando liscia in realtà un pochino antiscivolo quando le metti sono molto comode e non scivolano un'altra differenza fondamentale che potrebbe essere molto importante per tanti e l'impermeabilità infatti la ricopertura con questo strato è il fatto che si ricaricano tramite connettore magnetico quindi non abbiamo nessuno slot come quello del connettore usbc sulla versione light fa sì che la versione standard sia impermeabile ip67 mentre la versione light ip55 quindi con la versione light poi sudarci sopra può sopportare schizzi d'acqua senza problemi ma non ci puoi nuotare mentre con la versione pur free standard poi tranquillamente nuotare per quanto riguarda i pulsanti di controllo sono uguali abbiamo il pulsante per accendere e spegnere gli auricolari che funziona anche per passare da un brano all'altro in avanti o aumentare o diminuire il volume lo stesso vale anche per il pulsante meno che fa l'opposto per quanto riguarda il pulsante pausa che funziona anche per richiamare l'assistente vocale ce l'abbiamo sulla parte della conduzione ossea della versione standard mentre sulla versione light ce l'abbiamo qui sopra un'altra differenza che potrebbe essere importante per qualcuno a vantaggio della versione light questa volta nonostante il prezzo più basso e che abbiamo una batteria di capacità maggiore dura circa 10 ore di ascolto mentre la versione standard dura 8 ore che sono davvero tante per quanto riguarda il tempo di ricarica ci mettono tutte e due un'ora e mezza a ricaricare la batteria da zero un'altra differenza che vorrei menzionare ma secondo me è poco importante e la retro compatibilità della componente elettronica bluetooth della versione standard quindi se hai un telefono molto vecchio che non supporta aptX potresti aver problemi a connettere la versione light mentre la versione standard è compatibile con qualsiasi apparecchio anche il più vecchio in quanto a il dual mode con doppio microchip compatibile anche con vecchi apparecchi bluetooth per quanto riguarda la latenza e la medesima tutte e due non hanno una latenza percettibile assolutamente non la senti questo ovviamente è grazie alla tecnologia bluetooth 5.2 ma anche al decoder aptX alla fine dopo averli provati tutte e due per lungo periodo la differenza in soldoni se volessi sintetizzare per quale consiglio uno per quale consiglio l'altro se ti interessa l'impermeabilità non hai assolutamente scelta e dovrai andare a spendere circa 73 euro con il coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video mentre per tutti gli altri consiglio vivamente la versione light suono pur essendo meno fedele rispetto alla versione standard d'altra parte sicuramente sono sicuro che piacerà molto di più il suono di questo rispetto a questo come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video se hai delle domande lasciare giù uno spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima